A Nangrigento Labba, l'associazione Bed and Breakfast ha incontrato il sindaco Calogero Firetto per discutere nel merito della destinazione di spesa del ricavato della tassa di soggiorno imposta nella città dei Templi dallo scorso 15 luglio. Il presidente dell'Abb, Carmelo Cantone, afferma «In un clima di condivisione e collaborazione si è appena svolto alla Comune l'atteso incontro tra il Comune e i vertici dell'Abb. Per l'amministrazione comunale rappresenta il sindaco Firetto e per l'Abb, insieme a me, la vice Silvia Colletti e Giovanni Lopez. Durante il confronto si è discusso su una serie di idee progettuali per il rilancio del turismo ad agrigento sulla base dei fondi frutto della tassa di soggiorno. Attenso che sarà istituita al più presto una consulta del turismo col compito proprio di ben utilizzare questi fondi, l'Abb, con proposte concrete e innovative, ha inteso già gettare le basi per avviare azioni finalizzate a garantire una crescita di flussi turistici, non tralasciando l'aspetto migliorativo del centro storico. Appuntamento quindi alla riunione della consulta per finalmente essere operativi.